salve e benvenuti in questa serie relativa al nuovo pay scriviamolo subito nuovo pay 2020 oddio scusate nella stanchezza 2021 e come ricordo quest'ultimo è fondamentale insomma un po per tutti i concorsi quindi non voglio scrivere concorso a parte che del concorso straordinario è finito però non mi va di dividere concorso ordinario abilitante concorso dfa nuovo pay senz'altro dobbiamo scrivere metto un hashtag parte seconda questo sì e lo voglio dividere in moduli affinché la fruizione dei contenuti sia più semplice allora in questo caso in questo modulo cominciamo a parlare del gl o che se ricordate la schematizzazione nel precedente video però son buono e ve lo riscrivo è il gruppo di lavoro per l'inclusione quindi gruppo operativo per gruppo scusate di lavoro l'ho detto ma non l'ho scritto e sto accorgendo adesso operativo per l'inclusione quindi in realtà state comprendendo che il nuovo pay al suo interno ha tantissime voci e con l'occasione torna utile per tutti ovviamente non l'ho detto ma è utilissimo è fondamentale anche che i docenti di ruolo sappiano gli aggiornamenti relativi al pay 2021 non è che chi lavora c'è posto fisso non se ne preoccupa e che chi deve fare concorsi se ne preoccuperà considerate tra l'altro che ovviamente il bando del concorso è uscito l'anno scorso però nonostante sia stato successivo l'insegnante covid essenzialmente adesso sto super semplificando però in realtà è uscita sono uscite delle richieste nel concorso straordinario relativamente all'insegnante covid e relativamente alla di sta della didattica a distanza quindi presumo che il nuovo pay sarà sicuramente richiesto e ovviamente quando ci sono delle richieste le risposte esatte sono sempre relative a quello che è in vigore adesso non possiamo sicuramente è importante anche la storia della normativa italiana a meno che non mi venga richiesto qualcosa in riferimento ad un anno passato ad un periodo precedente ovviamente il nuovo pay e tutte le domande adesso con le adesso collegato deve essere conosciuto a mio avviso anche per avere qualche probabilità in più di superare il concorso allora ritorno gruppo di lavoro operativo allora la domanda che io vi farei è questa sicuramente che cos'è ma un'altra domanda che mi viene in mente da chi è composto allora io procedo datemi feedback anche nei commenti procedo essenzialmente anche a spiegarvelo così a forma di domande allora la risposta esatta è che il gruppo di lavoro operativo per l'inclusione è composto da un team di docenti contitolari è composto da docenti voi ricordate che è un team di docenti contitolari o dal consiglio di classe e viene presieduto dal dirigente scolastico quindi presieduto dal qua non c'è bisogno e vi scrivo che il ds ma se spesso si chiama ds ds dirigente scolastico ex preside viene presieduto dal ds o da un suo delegato spesso il vicepreside o il vice del dirigente scolastico ha potere di firma e quindi ovviamente ha potere oppure se viene delegato comunque ha sicuramente la possibilità di presiedere i docenti di sostegno e questo questa diciamo particolarità ve la dico anche perché ci stanno seguendo nuovi colleghi e vi do il benvenuto insomma a questo fantastico canale fantastico non per me ma perché ci siete voi i docenti di sostegno in quanto sono con docenti contitolari fanno parte ovviamente del consiglio di classe sono docenti di sostegno alla classe quindi mettiamoci tra parentesi compresi i volevo scrivere ds ds già abbiamo usato docenti di sostegno ok l'altra domanda quindi potrebbe essere il docente di sostegno fa parte del gl o ovviamente sì poi due chi è che vi partecipa quindi chi è che partecipa partecipa al gl o da che facciamo due piccioni con una fava vi rivedete un pochettino il pay e ci prepariamo pure alle varie domandine che tra l'altro noi diciamo sono domandine però a tutti gli effetti questa è la procedura da seguire quindi per chi lavora o per chi sta già lavorando probabilmente già queste cose le sa per chi magari non è direttamente inserito in questo in questo gruppo comunque fa sempre bene dare una rinfrescata allora partecipano al gl o sicuramente i genitori dell'alunno con disabilità i genitori dell'alunno fate attenzione a questa sottigliezza spesso ormai si usa dire non più cioè non si usa più dire all'uno disabile ma all'uno portatore di disabilità con disabilità ok quindi anche nello scritto a mio avviso è meglio scrivere meglio cioè bene o male è la stessa cosa però ovviamente sapete che handicap non si usa più tanti termini non si usano più e io sono anche d'accordo quindi fate caso anche queste sottigliezze io non ve le scrivo cioè quello che vi scrivo non ve lo scrivo casualmente ci tenevo a dirvelo allora i genitori dell'alunno sicuramente con disabilità se non ci sono ovviamente può capitare chi ne esercita la responsabilità genitoriale chi ne fa le 10 insomma io qua ve lo sintetizzo sicuramente le figure professionali specifiche le figure professionali specifiche sapete ce ne sono diverse nella scuola spesso sono anche esterne quindi scriviamo interne o esterne alla scuola meglio dire ovviamente all'istituzione scolastica io quando dico alla scuola do per implicito istituzione scolastica anche perché la risposta corretta che troverete sarà scritta così ovviamente le figure professionali di cui sto parlando specifiche sono quelle che devono che stanno interagendo con la classe non tutte le figure professionali specifiche che stanno che fanno facenti parte dell'istituzione scolastica questo lo specifico che queste figure devono interagire con la classe purtroppo queste sottigliezze a volte fanno la differenza tra chi risponde bene e chi risponde male basta ma io tutti i giorni parlo con colleghi insomma che si stanno preparando alla preselettiva vanno nel database trovano delle domandine un pochettino specifiche però ecco basta ragionarci non avrebbe senso che una figura professionale scolastica che non ha niente a che vedere con quella classe partecipi al GLO relativo all'alunno con disabilità non avrebbe proprio senso e quindi ci si arriva anche ovviamente partecipa anche l'unità di valutazione multidisciplinare l'avevamo penso chiamata U V M quindi ah no 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 U M V questo è un errore mio mi correggo subito e vi chiedo scusa U M V probabilmente probabilmente non lo troverete punteggiato eh la punteggiatura non ci sarà ci sarà U M V unità di valutazione multidisciplinare se mi se qualcuno dice ma perché non è U V M perché viene dall'inglese unit multidisciplinare eccetera eccetera poi domanda 3 fatemi pensare potremmo dire sempre all'U M V come partecipa dai scriviamolo in rosso faccio questo sforzo anche perché voi state facendo lo sforzo di seguire il video e ovviamente sono cose sicuramente che voglio dire non sono cose divertenti però penso che è anche bello insomma sapere di riempire un pochettino di vuoti io sono certo che andando a dire tutte queste cose all'inizio ehm quello che può accadere è avere anche un pochettino di confusione ma sicuramente poi tutti i tasselli del mosaico prendono forma quindi non ci dobbiamo abbattere allora la domanda che io avevo fatto è come si presenta come partecipa l'U M V l'abbiamo citato è giusto dire qualcosa in più così cerchiamo di collegare fare i vari link del puzzle per dargli un una forma allora intanto l'U M V è dell'ASL e l'ASL è sicuramente in relazione alla residenza dello studente quindi spesso capita almeno a me è capitato che quelle scuole che hanno il convitto e magari hanno studenti che vengono anche da 50 60 70 km è l'ASL che di competenza quindi di quella zona che deve mandare il è l'ASL di competenza che deve mandare il rappresentante infatti la normativa dice che l'U M V partecipa a pieno titolo ai lavori di GLEO tramite un rappresentante questa è la parte che mi interessa tramite un rappresentante designato dal direttore sanitario dell'ASL di competenza rappresentante designato dal direttore sanitario sappiate ma sicuramente lo sapete meglio di me che il direttore sanitario dell'ASL è un pochettino il padre eterno cioè dell'ASL è quello che deve padre eterno nel senso buono è anche responsabile di tantissime questioni il direttore sanitario i vice direttori solitamente vi faccio un esempio l'ASL di Roma 5 ma l'ASL cioè hanno un bacino di utenza di 4 500.000 persone quindi il direttore sanitario già comincia ad essere una figura molto 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 importante e quindi ovviamente non può andare in tutti i i GLEO e designa un rappresentante può capitare anche che l'ASL non coincida con quella di residenza dell'alunno e quindi quindi la nuova unità multidisciplinare prende in carico l'alunno dal momento della visita medica nei suoi confronti e deve acquisire la copia del fascicolo sanitario dello stesso dall'ASL di residenza perché può capitare che l'ASL del distretto della scuola capita molte volte non coincide con l'ASL di residenza dello studente vabbè queste sono sottigliezze non vi voglio dire troppo cioè ve lo dico a voce può partecipare lo studente secondo voi al GLEO che cosa dice la normativa deve essere assicurata la partecipazione attiva degli studenti ovviamente ovviamente degli studenti o delle studentesse con questa questa parte si ripete sempre si ripeterà sempre con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione quindi degli studenti con disabilità non ci facciamoci fregare cerchiamo di semplificare tutto il semplificabile così in maniera più schematica viene verrà percepito anche da noi questo questo nuovo pay altrimenti veramente c'è da impazzire io vi chiamo ragazzi vi chiamo colleghi insomma lasciatemi permettetemi anche di scherzare un po' sto pensando che altra quale altra domanda potrebbe uscire sul GLO però io penso ovviamente ecco che cosa fa il GLO cosa fa il GLO altrimenti mi potreste dire ma tutte queste cose sul GLO ancora non c'è la domanda più importante questa sottolineiamola diamogli importanza perché probabilmente alla fine del video ecco perché è importante se potete rimanere fino alla fine ecco se per alcuni parlo lentamente avete comunque la possibilità di switchare cioè di switchare cosa di modificare la velocità di riproduzione mettetela a 1.5 mettetela a 2 io così mi assicuro di andare ad una velocità consona per tutti tanto potete si usa questo termine a me non piace tanto sbobbinare i miei video a velocità molto più elevata e prendere quello che secondo voi rappresentate ovviamente io sono nella condizione cioè vi devo dire tutto poi se voi volete fare una sintesi della sintesi meglio ancora allora il GLO elabora e approva il pay ecco perché vi ho fatto elabora e approva il pay ecco perché è un gruppo fondamentale il gruppo di lavoro operativo per l'inclusione ovviamente ovviamente deve tenere in massima considerazione ogni apporto di tutte le figure professionali deve motivare motivando le decisioni adottate questo è un aspetto importante le decisioni apporto prese ok soprattutto quando ci sono dei diverbi cioè in particolar modo ma questo sempre nell'ambito della scuola quando le decisioni possono discostarsi da alcune parti dei soggetti partecipanti cioè se le decisioni vengono prese all'unanimità è un conto se vengono prese a maggioranza è tutto un altro conto bene io direi di dividerlo così in moduli vi il prossimo sì ci sarebbe ancora ecco allora datemi abbiate pazienza ancora un po' così vi dico qualche altra cosa relativa al GLO cioè giusto le cose più importanti che possono uscire sicuramente come domande per la presa elettiva ma che possono essere chieste sempre e poi insomma col GLO che elabora approva il pay ce lo siamo tolto quindi una domanda che delle domande che escono spesso è ho detto cosa come chi ma anche il quando quando si deve riunire oppure questa meno male che mi sono stavo per chiudere la diretta però anche questa domanda è sicuramente importante si deve riunire entro il 30 giugno per la redazione del pay entro il 30 giugno della S dell'anno scolastico eh ovviamente per la redazione del pay che in quel momento potrà essere anche provvisorio entro il 31 ottobre per perché prima va redatto poi approvato abbiamo detto per l'approvazione definitiva e quindi approvazione e poi la sottoscrizione ovviamente del pay in forma definitiva il quale pay in realtà poi è soggetto a verifiche scriviamolo è soggetto a verifiche periodiche perché ovviamente l'alunno con disabilità ha una situazione dinamica che evolve nel tempo e meno male che è così quindi durante il corso dell'anno scolastico abbiamo detto bisogna accertare il raggiungimento degli obiettivi ecco perché va rivisitato il pay e vanno quindi apportate eventuali modifiche ed integrazioni al pay quindi il GLO si deve riunire almeno una volta da novembre ad aprile per annodare le revisioni ed effettuare relative le verifiche intermedie quindi soggetto a verifiche periodiche virgola revisioni aggiornamenti questo ovviamente è importante fatemi pensare a qualche altra domanda ma penso che veramente abbiamo finito io penso che vabbè se mi sono dimenticato qualcosa tanto voi siete veramente tanto bravi cioè ovviamente poi il bacino di utenza è costituito anche da mille, duemila, a volte arriviamo anche a diecimila visualizzazioni, diecimila persone insomma sicuramente sarete talmente bravi che qualche imprecisione potrete trovarla io vi ringrazio insomma se mi correggete se vi è piaciuto il video lasciate qui un bel like, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati, lasciate qui sotto i commenti che sono la parte che io amo di più, questo è il regalo che fate a me e poi se volete qui potete condividere il video. con questo è giunta proprio l'ora per tutti, io pure non vedevo di terminare ma non perché ovviamente siamo tutti stanchi, io con questo vi auguro veramente un caro saluto, una buona continuazione di giornata, una buona notte o un buongiorno a seconda dell'ora in cui state visualizzando il video. Bye bye, caro saluto da Francesco Samani